Il signor Sindaco mi ha già fatto avere qualcosa, la prossima Piadina me la porto a casa. E l'Unione Europea, e questo è il messaggio, è stata al vostro fianco sin dal primissimo giorno e continueremo a farlo, lo siamo oggi e continueremo a esserlo. E la cooperazione è stata veramente eccellente, è stata eccezionale, questo è stato già citato, è stato già detto, la revisione ha avuto successo, è stato già detto, la revisione ha avuto successo, è stato già detto. Una revisione che è stata quella del Next Generation EU, il vostro famoso PNRR, e abbiamo già previsto, abbiamo dedicato 1 miliardo 200 milioni specificatamente a questa regione. Vogliamo aiutarvi a rimettervi in piedi, a essere più resilienti, a migliorare la prevenzione rispetto alle alluvioni per il ripristino delle strutture pubbliche, le infrastrutture, ma ovviamente quello stiamo facendo e faremo ancora di più. Besides the PNRR, we have also the agricultural funds, the farmers of Emilia-Romagna are particularly impacted, so we have provided them with 60 million euros from the agriculture emergency reserve. E, oltre al PNRR, ci sono ovviamente altri fondi, fondi per l'agricoltura, gli agricoltori dell'Emilia-Romagna hanno pesantemente subito le conseguenze delle alluvioni, per cui abbiamo messo a loro disposizione 60 milioni di euro che sono stati erogati sulla base delle riserve per l'emergenza dell'agricoltura. E molto importante è anche la riforma del fondo di coesione, è stata inserita una nuova milestone, una nuova pietra miliare nel piano rivisto, che ci consente quindi di reindirizzare importanti fondi per la ricostruzione e la risposta alle calamità. E questo può contribuire a rivitalizzare le comunità e le città che sono state colpite dalle catastrofi naturali, esattamente come si è verificato nel 2017 come conseguenza del terremoto che ha colpito l'Italia centrale. E abbiamo anche mobilitato il fondo di solidarietà. avete già ricevuto un anticipo di circa 95 milioni di euro per le situazioni di emergenza, per ripulire per le attività di recupero e di ripresa. e altri fondi arriveranno nei prossimi mesi. Giorgia, hai già citato tutta una serie di misure di prevenzione, per cui non ci tornerò, non mi soffermerò su queste. Quello che voglio dire, che quello che abbiamo assistito, quello che vediamo anche in tutta Europa, è che c'è un riscaldamento del globo, riscaldamento del mondo e del pianeta e gli eventi climatici estremi diventeranno ancora più frequenti. Quindi dobbiamo affrontare, dobbiamo combattere e prevenire il cambiamento climatico perché quello che vale e va bene per il clima va anche bene per le nostre economie. E quindi è eccellente che il tuo PNRR investisce anche in energetica rinnovabili, in energetica rinnovabili e in tecnologie rinnovabili. L'Italia è molto attrazione nell'implementazione del PNRR. La Commissione ha disperso il quarto pagamento all'inizio di dicembre. E questo significa che già la parte del PNRR è disperso, e credo che questo è una buona notte. Grazie al fatto quello che avete già inserito nel vostro PNRR, e questo è molto importante, perché state investendo anche nel dispiegamento di energie rinnovabili, di energie pulite, di tecnologie pulite. L'Italia è assolutamente in linea con la tabella di marcia per quello che riguarda l'attuazione del PNRR. La Commissione ha già erogato la quarta rata alla fine di ricembre, che significa che metà dei fondi PNRR sono già stati erogati, e questa è una bellissima notizia. Quando sono venuta qui a maggio, ho detto di restare forte, e che l'Europa è con voi. Ora voglio dire a voi, dal basso del mio cuore, che siamo stati a vostra parte, per quanto riguarda l'attuazione del PNRR. Ti imbotta, l'Europa rimane con voi. Quando sono venuta qui a maggio, vi ho detto che dovevate rimanere forti e che l'Europa è e sarebbe stata a fianco a voi. E adesso voglio dirvi, dal profondo del mio cuore, che continueremo a stare al vostro fianco per tutto il tempo necessario per la vostra ripresa. Timbota, l'Europa rimane con voi. Grazie. Grazie. Presidente dice se i sindaci vogliono venire tutti a fare la foto, siamo contenti. Grazie. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. 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 Grazie.